Gli italiani vogliono consumare bene e credono nella sostenibilità e nei suoi valori. L'85% dei nostri connazionali infatti considera i prodotti sostenibili più innovativi e qualitativamente superiori, con un'attenzione all'origine delle materie, al packaging, alla filiera e alla produzione. I dati arrivano da un'indagine Ipsos realizzata per il Salone della Ciesare dell'Innovazione Sociale, dedicato alla responsabilità sociale di impresa, ogni anno ospitato dall'Università Bocconi di Milano. Tanti italiani collegano il termine sostenibilità a qualità. Questo è un bel passo avanti perché vuol dire che non solo chi aderisce in modo, diciamo, anche morale alle questioni della sostenibilità, ma anche chi, come consumatore, cerca prodotti che possano soddisfare tutte le proprie esigenze. Un passo avanti notevole in una sensibilizzazione che forse è anche legata alla preoccupazione per il futuro del pianeta e insomma che tanti sono preoccupati per gli aspetti ambientali ma anche sociali. Ma esiste ancora una buona parte di scettici e indifferenti preoccupati che la sostenibilità possa diventare un espediente di marketing. Per recuperare questo 30% è importante il ruolo degli anticertificatori e delle associazioni, da quelle dei consumatori a quelle ambientaliste e per le imprese invece la sfida è di una maggiore trasparenza, così da rendere credibile l'impegno nella sostenibilità.